E quindi io e Marra, Marra già ne ha parlato, però prima di sbottonarci vogliamo leggere per bene la sentenza. Eh no, è giusto, giusto, perfetto. E quindi stavo in contatto con gli avvocati. Quindi è qualcosa di grosso, sì, sì, vai. Eh sì, 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 ebbene sì, ebbene sì. È qualcosa di... Buonasera. Oh, eccola, finalmente. Salve, salve. Eccola qui. Ci sono. Stavo dicendo, dove, dove hanno donne in ritardo? Le donne sono sempre in ritardo. Come al solito Livio, cioè, me, in ritardo sono io, non ci posso fare niente, faccio sempre ritardo. Però stavolta non è stata per causa mia, eh, se proprio lo devo dire mi posso giustificare. No, no, lo so, lo so, lo so, lo so. Però ogni volta il mondo decide che le donne debbano fare ritardo. E ho trovato l'autobus davanti e mi è venuto andare... Eh, quello... Casualità, capisci? Poi, comunque tu devi mettere che c'è molta differenza. Se proprio vogliamo parlare di streamer donna, streamer uomo, la donna quantomeno un pochino si deve preparare così. No, che si deve. Lo fa, lo fa per stare bene con se stessa, mentre l'uomo si mette l'avanti, attacca, starta. Cioè, prima di andare in live, comunque ci sta tipo un'oretta di preparazione. Un'oretta addirittura? No, io non esagero così tanto, eh, però comunque, magari se vuoi fare pure un trucco particolare dei capelli così, un'oretta. Altrimenti una mezz'oretta è via. Sì, è vero, pure io. Pure tu, tutti i giorni. C'ho sempre un trucco particolare, il trucco naso grande. Ma magari ti mostrerò come fare del trucco correttivo per appiattirlo, anche se comunque ti posso dire la verità. Il naso grande non è che dispiace a tante. Chi di naso abbonda... Andiamo a vedere soddiceria. No, 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 confermo, confermo. Mostra le prove, mostra le prove, no, scherzo. Ragazzi, ma ho capito che, cioè, è area di ban, c'è area di ban in giro, magari. No, 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 no. Quello è tipo perma, perma. Ciao, carissima, mi manchi un sacco, quando è che ci vediamo? Lei scende tra... scende giovedì. Ah, peccato, io risalgo ad ottobre. Ebbè, quando sarà la prossima volta? Che vuol dire risale ad ottobre? Eh, perché io adesso sto giù al mio paesino d'origine, a San Marzano sul Salve. Eh, ma a ottobre quando? Metà ottobre, più o meno. È lei il 6. Eh, è andata, è andata, va bene, la prossima volta ancora, non ci perdiamo d'animo, non ti preoccupare. Anzi, organizziamo l'uscita io e lei, senza te. Va bene, va bene, andate a divertirvi, perfetto. Per me va benissimo. Ok, a posto. Poi voglio vedere con le macchine come fate, però va bene, allora. Si preoccupa, chaffa. Vabbè, allora. E lei ti scrive, quando sali a Milano? Eh, allora, io volevo risalire ad ottobre, volevo salire ad ottobre. Poi c'è stato questo inconveniente e niente, devo rimandare. Ma si può dire che cosa c'è? No, perché io non lo so. Ho bussato, diciamo, molto prepotentemente ad una porta di vetro in un punto fragile e si è rotta. Ecco qua, e mette il braccio lacero. Ah, ok, ok. Chissà, cioè succede. Sì, può capitare. Cioè, ma quindi ti ha proprio sbragato, cioè ti ha fatto male? Di solo il gesso o una fasciatura? Sì, allora, è un gesso a doccia, praticamente. Ma ti si è rotto quindi, ti si è rotto il braccio? Da qua, no, mi si è lacerato da qua a qua, a qua, come i punti arrivano qua e qua sopra. Mi è entrato un pezzo di vetro, mi ha reciso il muscolo. Oddio. E per fortuna non i tendini, ma dovrò fare fisioterapia perché la mano non la riesco ad aprire. No, malissimo. Questa cosa mi fa cagare sotto. Per questo io sono scesa, perché devo mettere anche un tutore, poi dopo ho questa fasciatura. Quindi niente, ora vediamo un po'. Ti volevo fare un host, tra l'altro, mi sono dimenticata. Ma tranquilla, non importa. Allora, io volevo iniziare a prendere un po' alla larga, ok? Perché io mi sono accorto, effettivamente, lo volevo dividere in due parti. Però la seconda vediamo, se ci arriviamo. Vediamo un attimo come andiamo. A me già che non mi avevi detto il tema, come ti dissi l'altro, ho già detto, ma di parliamo, ma vuoi trarre in inganno, chissà, chissà cosa mi devo aspettare. No, no, allora, io mi sono accorto che effettivamente non ti ho mai fatto delle domande, un'intervista, una cosa un po' così. Quindi vorrei iniziare un po' alla larga. Grazie mille dell'host Red Lilium, troppo gentile. Prego, prego. Allora, la prima domanda è come sei entrata nel mondo di Twitch e, di conseguenza, anche come hai conosciuto Gianluca? Perché questa è una cosa che forse non tanti sanno. Ok, allora, ti dirò. Ho conosciuto Gianluca, ma non conoscevo tutti i video di Mr. Flame. Tra l'altro, io avevo visto, sì e no, forse in croce, due video. Era un periodo della mia vita non propriamente felice e mi capitò su YouTube, perché io vedevo più che altro beauty community, no? Persone che comunque... Cleo make-up. Sì, Cleo make-up, no, non tanto. Qualcosa di più peperino, però comunque trucchi un po' più scenici, bla bla bla. Ste cose qua. Però mi capitò una volta, tra i consigliati, sto tizio in maschera. Io ho sempre avuto una fascinazione... Beh, trucchi Mr. Flame sono correlati, diciamo, no? Eh sì, eh sì, però ti posso dire che ho sempre avuto una fascinazione verso il mistero, così. E dissi, ma fammi andare a vedere chi è questo. Apri il video, vabbè, dissi, mamma mia, come quanto urla, poi strillo pure io come un Aquila, però comunque... Ma mi piace questa cosa che aveva un tipo di ironia prettamente romana, poi tu lo sai, io abito a Roma da ormai... A dicembre faranno quattro anni. E quindi mi sono sempre stati simpatici romani, eppure il dialetto romano. Dissi, ammazza, vedi questo, mi ha fatto fare una risata. Almeno mi ha fatto alleggerire un po' l'animo, cose così. Sì, vabbè, ma adesso lo sai che faccio? Lo cerco su Instagram, lo aggiungo, cioè, niente di che, eh, volevo restare... Dopodiché, dopo la... Le storie d'amore migliori lascono così. Eh, esatto, cioè... Proprio... Poi vedi un altro suo video, al che proprio nella notte stessa, tipo alle sette del mattino, alle sette del mattino, mi contatto Mr. Flame. Ah, lui ti contatta! Quindi è stato lui che ha lanciato... Certo, ma io non lo conosce. Ma io non lo conosce, poi io tenevo altre situazioni lì, io non ne ho fatto mai mistero, cioè, io tenevo altre frequentazioni, così... Cioè, comunque stavo riscoprendo un po' cosa poteva essere affini a me, magari cercare la persona giusta, ma non vedevo la persona giusta in Mr. Flame, cioè, in un creator di cui ho visto due video, onestamente, pure perché eravamo completamente lontani da... Diciamo, non avevamo punti in comune. Io derivo da un altro mondo, mondo got, dark, e poi, tra l'altro, basavo le mie relazioni sulla prima domanda fondamentale, cosa ascolti? Cioè, non credo che Gianluca abbia mai ascoltato Darkwave e cose di questo tipo. Cioè, tu cosa ti ascolti di solito? Eh, c'ho tutto un pannello qua così, però il mio... No, metal no, è mio fratello, metallaro, no. Tutti quanti confondono la Darkwave col metal, no, non è così. Cioè, se sei d'archettona, non sei metallara. Quanto meno non sono assimilabili le due cose. Ma qua stiamo parlando di grandi tecnici, i Dream Theater, i Sinfonix, i Planet X, Youngra, grandi tecnici! Vabbè. Vogliamo parlare della figura dell'altra sera con Daniele De Sager? No, no, scherzo, scherzo. Ah, guarda, con Daniele De Sager ci abbiamo discusso l'intera serata che io dicevo che il rap faceva schifo e lui diceva, no, per quel rap, Dream Theater... Io ti ho difeso, però, eh? Ti ho difeso, perché la diatriba era nata sul fatto che i Dream Theater dovevano avere comunque anni di studio per poter avere quella tecnica, mentre i ragazzi che rappano, onestamente, no. Cioè, per dire, il rap, ok, non è Rovazzi, però dico Rovazzi non sa cantare, è andato lì, hanno fatto una canzone in rap, lo vedo molto simile anche a questa cosa, cioè, lo vedo molto più semplice di Dream Theater, per dire. Esatto, esatto, e io ti ho difeso lì, però, vabbè, no, questo forse è magari un altro discorso, potremmo affrontarlo pure con Daniele. Lui ti ha scritto. Lui mi ha scritto e io ho detto, ok, è già quella cosa non mi piacque, perché ho detto, eh, calla, questo è il classico... Solito marfione. È il classico tipo che praticamente si avvale del suo status da YouTuber e pensa di poter contattare chiunque. Pesissimo, pesissimo. Ma qua perché mi disse subito, beh, ma allora, a parte che Livio, io proprio ti dico la verità, e ripeto, eh, non ne ho mai fatto mistero, lui, io lo dico, secondo me, grazie a me e al Cerbero, lui si è sgrezzito, anche nel modo di scrivere, perché nel Livio scriveva in romano, io a volte non gli rispondevo, perché io non capivo quello che scriveva, cioè, veramente non capivo, cioè, lasciavo lì le conversazioni, ma sei sparita? Eh, no, avevo da fare... No, io non capivo, non potevo rispondergli alla prima volta, ma scusami, in che senso? Scusami, non ti ho capito? La terza mi sembrava una figura di merda fargli fare una figura di merda, come ne andavo io. Però guarda che è vero che è una persona comunque che cerca di migliorarsi. Sì, io questo lo apprezzo molto. Assolutamente sì, è vero, è vero, è una delle caratteristiche che comunque mi piace di lui. Poi, vabbè, ma ti dirò che quella stessa mattina lui, cioè, gli disse, vabbè, sei di Roma qua e là, mi disse più o meno la zona, vabbè, ma ti va di fare colazione insieme? Dissi, ah, così proprio, cioè... No, comunque, da allora passarono due mesi, due mesi a qualche giorno prima di scrivere. Cucinato proprio a fuoco lento. Oddio, cucinato. Lui aveva le sue frequentazioni. È metafora Twitch, non l'ha cucinato davvero. Sì, no, no, ci mancherebbe altro. Poi lui io lo chiamo Erpatata, quindi è sicuramente tipo una bella cucinata patatona così, perché è un po' Erpatata. Lui se lo vedi in faccia, ci azzecca proprio come nome. Ci sta, ci sta. Sì, e niente, poi ci siamo conosciuti e da allora con alti e bassi, eh, carita di Dio. Però questo è quanto. Io non mi sono mai basata sul suo status da YouTuber. Cioè, io mi sono recuperata poi man mano dopo tutti i video. perché comunque quando frequenti una persona è anche un modo per conoscerla trasversalmente, per capire un po' come la pensa, entrare un po' nel suo mondo. Lui però nel mio non c'è entrato. Vabbè, comunque, mancanza di interesse da questo punto di vista, vabbè. E niente, tutto qua. Poi tu hai detto, mi hai fatto l'altra domanda. Ti posso dire una cosa? Io mi ricordo quando... Cioè, perché io già lo conoscevo. Certo. Ok. Io mi ricordo come parlava di te all'inizio, perché lui ci aveva, anche lui magari qualche ragazzina in cui si sentiva, diceva però, eh, con lei c'è qualcosa di particolare. Quindi, cioè, nel senso non arrossire. Però lui... No, 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 io arrossisco. Io godo dentro, cioè, che arrossisco. Proprio di cuore. No, scherzo. Però comunque, sì, abbiamo parlato anche di questo. E idem, ma anche io. Cioè, pure io avevo le mie frequentazioni. Sapevo che lui teneva le sue frequentazioni. Ma quando ci siamo incontrati, abbiamo deciso comunque di proseguire un rapporto, diciamo, più strettamente affettivo, ce lo siamo detti. Cioè, comunque io mi sono accorta che nonostante tutto ricercavo sempre lui. Lui mi faceva stare bene. Poi c'era quell'aria di mistero che non capivi cosa scriveva, che ti intrigava, sì. Eh, sì, sì. Ma tu lo sai che l'ho sgamato... Io ho sgamato la sua faccia prima ancora di poterlo incontrare. Cosa è? Eh. Lì una sera andò ad una serata e... Ah, oddio! E con le foto c'erano... Ma che colpa mia! Esattamente, Livio, bravissimo. Esattamente. Bravo, Livio. Ciao, Elettra! Ciao, Elettra! Sì, sì, in realtà di un tuo amico. Sì, sì, di un amico mio. Perché noi siamo andati a questa festa, ragazzi. E c'era questo amico mio che ha ripreso mentre stavamo a questa festa e più... Ma ti giuro, ma... Tipo un decimo di secolo... Stava pure con una ragazza. Stava pure con una ragazza, stava. C'è che non mi ricordo. Io mi ricordo che Marra si era portato una tizia. No, no, pure lui stava con una ragazza. Ah, boh. E c'è questa... Questa carrellata velocissima. Siete per un frame, tipo? Per un frame. Eh, ma io che ne potevo sapere che era lui, però? Esatto. Come l'ho già mai. Eh, perché dalle sue stories si vedeva un pezzo di manica della sua maglietta che era fatta tipo geometricamente. Ma, saunque voi donne state avanti. Beh, questo è proprio oltre. Questa è una cosa... Sì, sì. Allora, vedi, sì. Ah, tiene la maglietta nera con questo disegno geometrico sulla maglia. Poi andai nel profilo di Tutubi che però aveva ripostato te che tu avevi ripostato un tuo amico e da lì, da lì nello... proprio in... si vede Gianluca con una ragazza così, no? E io poi... Ma quando l'hai visto che emozione... Cioè, ti ha detto... Hai detto me lo aspettavo così? Io ti dirò la verità. Lui mi diceva sempre ma perché non mi chiedi... Ciao nel romante. Tipo, ciao nel romante. Perché non mi chiedi quanti anni ho? Perché non mi chiedi tipo per esempio una foto della mia faccia? O forse era da parte mia mancanza di interesse in quel senso o perché volevo mantenere la sua privacy? Poi magari così. E quando l'ho visto la prima volta non me lo aspettavo così sono sincera non me lo aspettavo così me lo aspettavo diversamente quindi... Vabbè, noi lo conosciamo io non mi pronuncio però... No, ma pure io quando la prima volta che l'ho visto ho detto... All'inizio manco avevo capito che era lui cioè, a parte il fatto che io comunque se devo essere sincero prima di conoscerlo dal vivo non avevo mai visto un video ce ne avevo visto un po' di tempo fa cioè, non... non mi è mai interessato comunque l'unica persona che seguiva i video prima di conoscerlo era Simone ma perché ci siamo dissati quindi... proprio per quello Infatti Vabbè, quindi pure tu hai avuto la stessa impressione Eh, vabbè nel senso ovviamente la maschera crea cioè, ti fa immaginare c'era tipo un contrasto tra il vocione e il suo viso che è molto non so come spiegare diciamo leggero cioè con i tratti delicati non so esatto da patata esatto però sì è molto dimostra pure meno anni di quello sì, giovanile e quindi vabbè lì per lì dissi dissi cavolo potrei sbagliarmi poi dissi no vabbè ma secondo me lui va la maglietta è la stessa e io stronza come ero perché giustamente lui mi aveva scritto poco prima di uscire ci siamo ci siamo ci siamo che è saltato un attimo tutto non so per quale motivo stavamo dicendo oddio ho perso il filo del discorso che lui poco prima di uscire mi aveva contattata per vederci nei giorni a venire però poi lui stava con un'altra ragazza al che sia per fargli capire che avevo capito come era fatta la sua faccia sia per dire a stronzo questa sera potevo esserci io eppure e dissi guarda mi sa forse non vorrei sbagliarmi non vorrei sbagliarmi ma ho forse capito chi sei perché comunque ho la foto della tua faccia e lui disse ma com'è possibile ma non è vero ho detto sì sì ma tu stai in discoteca e beh ha visto la mia storia ha detto no no io tengo la foto della tua faccia ah vabbè e fammi vedere che via la fotografia proprio beh poi in quel frame dove si vedeva pure la ragazza a fianco proprio per far capire non sono stupida cioè proprio tattico e lui mi scrisse mi rispose allora uno non so che dirti perché sicuramente questo è un faciolo secondo seconda cosa questo faciolo sono io non so come cazzo hai fatto ma questo sono io questo sono io e e ti è piaciuta come risposta sì perché poi a distanza di due anni quasi due anni la ricordo ancora e lì lì lui mi inviò una sua foto fatta diciamo così precedentemente avrei tutto impostato tutto yeah tutto la foto migliore la foto migliore vabbè giusto ci sta e e niente io non sono una ragazza che vada molto all'aspetto fisico a me lui comunque piace e piaceva però davvero conta molto poco avevo paura soltanto dell'incompatibilità a livello caratteriale di gusti forse queste cose col passare del tempo hanno un po' influito sul nostro rapporto e sono uscite delle problematiche appunto per queste eventuali incompatibilità però dal momento in cui una persona ama l'altra e la si deve amare anche nella totalità no di ciò che è quindi non soltanto per i pregi o quelli che a noi sembrano pregi ma anche per i difetti e io la penso così e e nulla poi ci siamo incontrati dopo e questo questo suo lato eh internetiano tu come lo vivi cioè ti piace non ti piace stanno cose che ti danno fastidio la relazione in base anche al lavoro che fa non ha mai allora non mi ha mai infastidita più di tanto anzi è stato bello conoscere qualcosa di nuovo tramite lui perché per me era un mondo nuovo 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 ma non solo Twitch proprio già Youtube cioè io come ti dicevo vedevo soltanto i video di 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 make up e quindi diciamo scusa che se mi risca disabilito you no no lasciali 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 scusami e quindi quindi sì non mi ha mai limitata ci sono stati momenti in cui è bellissimo ciao 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 che fine ho fatto fare ma mi posso fumare una sigaretta nel frattempo sembra da scostumato ok non prendete esempio ovviamente io è stato bello però ci sono stati anche momenti in cui anzi se ti posso dire spesso e volentieri l'ho aiutato ma lui non ne ha fatto mistero cioè ci scambiavamo delle idee hanno riscattato bravo no perché poi la lente cioè poi scema tutto tutti che riscattano uh 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 ha 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 capito ecco poi ci metti pure te è finita uh questa è una cosa bellissima e diciamo che col col tempo poi è stato bello io continuo come se nulla fosse sappi che è difficile eh lo so io ho detto li levo ti ho detto no no tieni no no lascia 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 scusa pure ieri ti senti continuo come se nulla fosse ieri ti senti in live di giuro poi tu fai tipo come young signorino tipo così no è perché quella è la risata di gsmosh ma hanno riscattato pure il cappello d'arena un secondo ma ti devi mettere vai 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 no è giusto che sia così la tua community sta riscattando dei non ho parole le ho finite ok adesso si che si può essere seri oh vai uh allora io farò di tutto per non interrompermi quindi però perdonami diciamo che poi col tempo forse quando io ho iniziato twitch dal mese di maggio giugno ogni tanto anzi mi capitava spesso di stare a casa avendo comunque soltanto a disposizione la sua stanzetta è successo che io puntavo alla partner quindi facevo più live mi mettevo là così e lui pure faceva live dalle 15 alle 21 diciamo che questa cosa ha un po' smorzato il ritmo del rapporto ma ci sono sempre nelle relazioni periodi di questo tipo quindi può capitare che effettivamente sì diciamo che ciò che faceva lui e ciò che facevo io andavano in contrasto noi praticamente quasi non ci vedavamo pure nella stessa casa non ci vedavamo perché lui si alzava tardi io mi alzavo presto perché mi mettevo a cercare degli articoli avere delle idee eccetera eccetera lui poi si alzava alle 15 faceva la live io invece poi alle 18 iniziavo a prepararmi un pochino così e al 19 e 30 andavo in live e finivo alle 21 lui attaccava alle 21 e finiva alle 22 22 e 30 io alle 23 piglio e riattaccavo e purtroppo forse in quel periodo lì ha un po' l'ho detto Livio Cacchione Livio Cacchione sì maledetto e questa cosa come l'hai vissuta cioè ti è pesata o no? sì 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 è pesata sia su di me che su di lui ma infatti ne abbiamo avuto ne abbiamo anche parlato ciao ciccio ne abbiamo parlato abbiamo comunque individuato il problema stava diventando una cosa troppo monotona troppo di routine e stava smorzando comunque da parte di entrambi l'entusiasmo detto molto chiaramente può succedere però ripeto che fin quando si individua il problema e se si ha la volontà oltre comunque l'amore che ci unisce una volta individuato il problema ci si può lavorare sopra almeno così si dovrebbe fare in maniera matura poi se vogliamo fare gli adolescenti che alla prima difficoltà uno piglia si lascia sbraida va con uno va con l'altro io onestamente a 30 anni non è cioè non è il tipo di rapporto che io cerco ovvio 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 pure io cioè sono sono uguale ma tu invece cosa qua sono io che faccio le domande a te no 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 adesso rispondi a questa domanda cosa grazie tipo per esempio il tuo punto di vista relazionale e se comunque il tuo lavoro ha inficiato attualmente sulla tua relazione o in passato allora no in passato no perché non ho mai preso come lavoro questa cosa ok neanche adesso c'è adesso non è cioè è un lavoro dal punto di vista delle tempistiche però non è un lavoro dal punto di vista dei guadagni per ora ok allora ma arianna streama giusto no 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 ah no io sapevo no arianna non streama ogni tanto fa qualche comparsata con me ma lei non streama no no eh ma è brava per questo io pensavo che streammasse ok no c'è un talento naturale una ragazza molto intelligente si sa adattare si 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 no comunque il problema è sinceramente aprendo questa piccola parentesi più che altro che se io vado lì io come streamo cioè perché dal mio pc non si può fare dal suo neanche perché abbiamo tutte e due un mac abbastanza vecchio e i mac non sono ottimizzati per streamare ok e quindi quello è un problema cellulare cellulare io ho un cellulare a 60 euro che si impalla pure aprendo instagram e io e comunque se io vado là tipo per due settimane io non posso fare due settimane di live dal cellulare capito cioè quello quello è un problema che stiamo cercando di risolvere perché ok può sembrare una scemenza così però su twitch serve costanza specialmente appunto dato che mi sono dato fino a dicembre come devo martellare ok e Livio tu non hai nessun portatile niente eh no ce l'ho ma è un mac non si può fare io purtroppo pure c'ho un portatile non è un mac ma mi dà problemi perché in realtà servirebbe un fisso infatti una sulle cose sulla quale sto cercando di mettere da parte qualche spiccetto è appunto un computer fisso però ti posso dire che ho un portatile è pure salvifico perché comunque eh dove vai vai se vuoi saltare una live la starti eh idem adesso tra poco dovrò fare un cellulare perché il mio è un iphone 7 alla quale sono affezionatissima ma è completamente obsoleto rotto non si sente nulla tu hai un iphone 7 io ho questo che è un moto la 60 euro eh ma lo sai che stanno gli Xiaomi che fanno il loro porco lavoro a 150 euro eh lo so lo so però per ora mi servirebbe magari un portatile normale provare così meno male che a Milano ci stanno gli studi di patte sono gli studi dove anche il Cerbero ha fatto le live il problema è che stanno a mezz'ora di macchina da Arianna e io cioè se voglio fare due live al giorno diventa complicato perché non mi va di rompere le scatole ogni volta a loro lo sappiamo che comunque ci vogliono degli investimenti per poter fare questo altrimenti per avere soprattutto maggiore libertà perché già questa cosa potrebbe risolvere un buon 80% dei problemi quando vai da Arianna per non lasciare in attivo il canale lo so che è difficile però piano piano mettere da parte e fare dei sacrifici quantomeno poi comunque almeno io ma credo anche tu per quello che ti ho conosciuto non siamo persone materialiste abbezzi al che ti devo dire boh alla marca alla cosa cioè è per fortuna direi quindi per esempio per quanto riguarda me ci sono tante miei coetanee che spenderebbero fior fior di soldi per una borsa griffata o dei vestiti di lusso così io onestamente preferisco puntare su altro sì ma pure io pure io ma la domanda iniziale quella che ci siamo persi è come sei entrata nel mondo di Twitch come è che hai detto adesso lo faccio anch'io allora come saprai poi io all'inizio stavo con per esempio spesso stavo con Gianluca e quindi sono stata un po' trascinata dentro al cerbero la mia prima comparsata fu con la maschera di Gianluca io manco mi volevo mostrare e avevo una paura fottuta perché comunque non tanto per le mie idee quanto comunque per il mio aspetto fisico io odiavo farmi vedere in video proprio cioè non ce la facevo stavo proprio male beh hai scelto il lavoro giusto allora eh diciamo che Twitch mi ha aiutata tantissimo in questo senso eh ma proprio tanto 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 sì e quindi poi sono passati tipo tre mesi tre quattro mesi in cui facevo la voce fuori campo al cerbero quando Gianluca abitava non ancora con Simone e Marra e magari voleva avere un contraddittorio una persona con la quale parlare e quindi io non mi facevo vedere poi da lì Marra espresse il desiderio di farmi vedere perché era brutta una voce fuori campo e stonava un po' diciamo che da questo punto di vista avevo già un po' di gavetta alle spalle in realtà io non ho iniziato con Twitch il 31 ottobre più o meno fa un anno io ho iniziato con YouTube proprio perché mi piaceva molto il modo di montare di Gianluca editare video eh non facciamo eh bravo bravo sì e io mi ci mettevo là e lo guardavo proprio con per me ho un mondo nuovo cioè io ero proprio tech blin ma lo sono ancora però comunque eh mi piaceva tanto proprio il suo impegno il prodotto che ne usciva ehm al che poi dissi lui mi disse ma perché non ci pensi perché non pensi di fare quanto meno YouTube quindi io comprai l'attrezzatura che consisteva in eh ci fu una giornata di maggio in cui Amazon fece degli sconti e mi eh e comprai uno Blu Yeti eh due softbox e la C920 basta dissi bene approfitto ora da maggio iniziai a fine ottobre quindi pensa quanta voglia io tenevo di di fare però eh nulla volevo buttarmici dentro iniziai con YouTube a fare qualche video anche se comunque poi col tempo avevo capito che YouTube non era la piattaforma adatta a me non mi entusiasmava non mi dava un un ricambio a livello di interazioni una community un po' tossica eh poi con Twitch invece mh ho iniziato con la quarantena io ero da sola a casa a Roma da sola proprio in un paese quindi non mio non c'erano c'è i conquilini sono rimasti tipo per le prime due settimane poi sono andati via eccetera eccetera e come sai con il lockdown comunque non ci si poteva vedere né niente avevo proprio bisogno di interazioni io avevo proprio bisogno di interazioni mi ero accorta che non mi bastavano più le chiamate con la mia migliore amica avevo bisogno di parlare con qualcuno su alcune idee che avevo su articoli che leggevo allora dissi ma perché allora a questo punto non non inizio con Twitch provo con questo nuovo percorso perché no eh io devo dirti la verità che a me Twitch anche in quel senso mi ha aiutata parecchio perché mi sono sentita molto meno sola ed era bello perché comunque io mi facevo proprio tipo live di 8-10 ore così molte persone tipo la chiamano live di questo tipo maratone per me era era proprio bello interagire stavo con quei pochi spettatori ma che comunque con quanto hai iniziato eh Livio stavo più o meno inizialmente tipo 50 e poi dissi oh madonna mia 50 spettatori per l'inizio è tanto cioè io 50 li ho raggiunti dopo un paio di mesi eh cioè io mi ricordo la prima live ho fatto la prima live con Simone e quella la stavamo sui 60 70 ti dico solo quello senza poi Simone sei andato e sei rimasto tago a casa mia alle 2 abbiamo detto ma perché non iniziamo una live così a casa che faccio ta ma alle 2 di notte così non ci caga nessuno siamo rimasti tipo mezz'ora con 0 spettatori a parlare a una certa è entrata una persona e tago gli fa tu tu che ci stai guardando parla con noi e ci siamo messi a parlare poi ne è entrato uno così e abbiamo finito tipo con 10 eh ma guarda Livio pure io ed è stata la soddisfazione eh sì guarda che pure ho passato live così eh cioè all'inizio 50 ma perché avevo diciamo che quando ho iniziato Twitch era successa tipo una mezza cosa dove la diva del tubo aveva messo uno screen di un'altra persona che mi nominava quindi diciamo che forse è stato pure il content sì 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 il content poi dopodiché comunque si abbassavano mano a mano 30 spettatori e dicevo vabbè non mollare e poi comunque mi piaceva interagire con le persone iniziai a mh fare che ne so discord e poi facciamo una chiacchierata su discord eh cose di questo tipo molto banalmente eh c'è stata per esempio a me un'occasione in cui avevo startato la live e stavo con zero spettatori la dissi che cazzo faccio cioè non avevo nemmeno un argomento per cui magari potevo dire guarda mo pure faccio finta che ci sia qualcuno e quindi parlo di questa cosa magari leggo l'articolo no niente niente di tutto questo stavo a zero spettatori e gli dissi andaggia la miseria mi ricordo ancora che però entrò una persona e dissi non lo so come cavolo mi venne dissi guarda resta qua perché adesso cambio il titolo mi leggo i tarocchi una cosa del genere e iniziai a leggere i tarocchi su ci sta tipo un sito di una tizia così e quindi poi da lì sono subentrate altre persone e mi chiedevano ah allora leggili a me così quindi bene o male mi sono riacchiappata secondo me è una cosa fondamentale non perdersi d'animo e sapersi reinventare pure al momento perché altrimenti è finita l'improvvisazione su Twitch è tanta roba sai quante volte io porto un argomento e poi però quell'argomento in realtà è troppo corto esatto e dopo che cosa fai e lì ti devi sapere è molto improvvisazione questa cosa rende le cose un po' più frizzatei tantine molte volte ti fai anche guidare dalla chat magari la chat ti fa guarda questo fai questo esatto ma guarda che comunque la chat forse non si rende conto ma è parte fondamentale comunque noi ci basiamo tantissimo pure sulla richiesta della chat cioè io me ne accorgo ogni giorno anche in base comunque al numero degli spettatori ai viewers cosa vuole l'utenza dal mio canale e cosa invece non trova a fine rispetto a quello che porto e soprattutto poi già da qualche domanda da qualche aneddoto che si può leggere in chat ci si può veramente costruire una live intera pur non avendo nulla di di preparato e quindi come oggi no io sono venuta qui da te parlo di me ma stiamo andando proprio a braccio così no no era un po' l'intento in realtà e la domanda tu l'hai vista la di ieri sera no cioè eri pure tu sì 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 che l'ho vista perché ieri mi hanno detto io non lo sapevo che eri online mi hanno detto Livio è triste dissi vabbè io mo devo stacca andiamo da Livio diciamo Livio faccio un sorriso poi mi sono sentita pure in difetto perché ho detto non so per quale motivo è triste fa che è successo qualcosa di grave mi sembra pure mi sembra pure assurdo magari andare a scrivere Livio faccio un sorriso ho sbagliato a dire una cosa del genere e poi invece sono rimasta ho capito perché eri triste sì sì e la cosa la domanda è l'hai mai provata questa sensazione riguardo a Twitch nel senso perché star in tre magari come ad esempio nel caso del Cerbero si aiutano a vicenda con gli argomenti ci sta la gente molta gente che gli scrive in direct gli argomenti da portare invece essendo da soli a te non lo fanno? ogni live è una sfida no io io c'ho persone i miei i miei non mi suggeriscono un cacchio io ogni cosa la trovo la trovo io ragazzi no io devo dire la verità c'ho tante persone che comunque mi scrivono su telegram o in direct e mi dicono Anna guarda hai visto questa notizia hai visto questo video ti giuro se dovessi raggruppare tutte le persone poi magari ci sono giorni in cui veramente non oppure che io scelgo io ovviamente gli argomenti cerco di mantenere una linea e magari ci sta pure qualche persona che dice eh però ti avevo consigliato di parlare di questo mi piacerebbe sentire quindi da questo punto di vista forse sono un po' più fortunata quindi utenza di Livio ma non abbiate paura di esporvi di consigliare di fare ma tu hai un gruppo telegram sì sì c'è il gruppo telegram dove Simone posta i memini e gente posta i memini al massimo e diciamo qualche cavolata ma il fatto è tu la senti l'ansia da prestazione come no io come ti dicevo ieri ad agosto ho subito proprio un allora due volte due volte la prima volta quando ancora prima dovevo ricevere la partner perché ti giuro io veramente stavo facendo di tutto di tutto per poter riuscire a riceverla ma come so anche tu perché noi l'abbiamo presa praticamente insieme e facevo mi sa proprio lo stesso giorno forse lo stesso giorno eh uuuuh scusa quindi quindi diciamo che veramente mi impegnavo e trovo gli ospiti e mettiti in gioco e fai più ore di live più live al giorno partecipa sui canali cosa che faccio anche ora con un estremo piacere eh però poi vedevo che ah 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 lo so eh all'improvviso erano molto altalenanti gli spettatori e quindi mi ero un po' demoralizzata dopodiché ho ricevuto la partner ho iniziato a credere un po' in me stessa purtroppo però subito dopo il periodo della partner ho iniziato ad avere un periodo di ansia infatti ne ho parlato nella ne ho parlato nella stessa diciamo voglio dire più o meno due o tre live fa e che cioè praticamente mi ha dato una battuta d'arresto io mi sto riprendendo da questo periodo di ansia forse forse da una settimana a una settimana e mezza sto molto più tranquilla con me stessa però ha iniziato a farmi a non farmi credere più in me stessa poi c'è stato agosto la moria degli spettatori proprio tutti quanti ovviamente dicevano guarda è perché guarda che comunque le persone vanno al mare escono non stanno in casa è differente vedrai dati tempo fino a sette io mi ero data io feci questo discorso dissi ve lo dico proprio senza con umiltà con tanta modestia visto che io abito a Roma comunque sono sempre stata una persona che ha cercato di essere autonoma nella vita sempre ho fatto tanti lavori pure fino a prima della quarantena mi facevo la babysitter la doc sitter ogni tanto davo ripetizioni io mi rendo conto che comunque per poter vivere e campare devo comunque lavorare se vedo che questa e poi inoltre a me mancano tre esami per laurearmi quindi se questa cosa di twitch in realtà non si rivela allora si rivela molto tanto per me per crescita personale proprio se proprio ti devo essere onesta però se si rivela non remunerativa ahimè io la devo sacrificare come come priorità e perché comunque magari mi dedicherò ad un lavoro serio per poter vivere e contemporaneamente studiare per perché poi comunque anche l'università è una spesa e quindi studiare e prendermi la laurea se vedo che comunque non avrò risultati sotto questo punto di vista io lo dico proprio tranquillamente cioè sono consapevole di tutto questo che non posso mirare a chissà che cosa quindi è stato bello posso fare una live di tanto in tanto però non essere così costante tutti i giorni perché dovrò lavorare e dovrò studiare non ci avrò il tempo e ti chiedono come sta andando adesso io da quando sono ritornata a settembre sta andando molto bene però io posso dirti anche una cosa e di questo ne ho parlato pure una sera con Lucy Lane che è venuta a Roma effettivamente mi ha fatto riflettere su una cosa io ti devo dire la verità questo mio malumore mi era scaturito quando vedi che una volta su un canale di un'altra streamer che ancora non aveva la partner e comunque stava alta di spettatori e no alta di spettatori aveva spettatori un po' meno dei miei ma aveva tipo la sub goal con tipo almeno una cinquantina una sessantina di sub in più e lì dissi sì in più rispetto a me e e lì dissi ok Anna gli spettatori non sono tutto ci si si campa di sub che fondamentalmente è quello diciamo la fonte di maggior guadagno oltre comunque le donazioni i bits le pubblicità le pubblicità però se hai un bel tot di spettatori se stai con 100 190 180 non è che di tanto certo e e quindi io lì dissi Anna mi sa che in realtà stai sbagliando la gente non ti supporta magari è pure interessata ma non al punto di investire magari su di te così come si paga un canone fondamentalmente no ma anch'io ce l'ho avuto sto pensiero feci sto discorso qua parlando però con Lucy Lane e poi effettivamente dissi ma che cazzo dico lei mi disse tu Anna lo sai comunque i miei spettatori si sono dimezzati ma sto puntando molto di più alla qualità che alla quantità quando io facevo 1500 persone in live io avevo almeno un tot di sub in meno una cifra abbastanza considerevole e lei mi disse ora sto con meno spettatori ma ho molti sub in più hai mai fatto il giochetto sull'analytics vedere rispetto a quando avevi 300 fissi di spettatori ora quanti sub hai mi disse questa cosa ritornai a casa feci sto giochetto e effettivamente mi sono resa conto che sono cresciuta di sub magari ad agosto non andava bene in viewers però comunque diamine c'era stato un bel un bel passo ora con settembre quindi mi ero dato a tempo fino a settembre massimo ottobre con settembre ho visto che col mio ritorno visto che ero stata molto 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 incostante Livio cioè veramente io mi sono fatta la conta dei giorni in cui ho streamato ma sarà tipo in totale 14 da tipo agosto ad ora ora sto iniziando a streamare un po' tutti i giorni e ti posso dire che però da quando ho iniziato ho avuto un buon riscontro e quella cosa mi ha dato una botta di adrenalina diciamo mi ha fatto credere ancora in me stessa per cui ho buttato giù delle idee anzi di un'idea te ne devo parlare visto che comunque pure tu stai affrontando la mia stessa situazione e soprattutto siamo due persone che lavorano da sole cioè praticamente è così poi magari te ne parlo poi poi ti dico nel caso lo sai cos'è cioè a te ti è mai capitato la cosa del faccio una live con pochi spettatori ho fallito cioè che tipo che ne so c'è una live ci stanno pochi la metà degli spettatori soliti e dici cavolo allora la gente non mi segue perché sono io ma segue soltanto l'argomento non è un pubblico fidelizzato ho fallito io queste cose queste cose io ce le ho ed è una cosa di Twitch che mi manda ai matti a me pure se stanno 30 spettatori per me vuol dire quelle 30 persone quantomeno per me sono fidelizzate meritano comunque magari tra i quei 30 tutte e 30 sono sub meritano il mio tempo giustamente sulla quale hanno investito e non mi demoralizzo poi dipende molto dal mood in cui stai perché può capitare qualche volta che comunque stai andando alla grande e ti capita una live due live che non ti vanno bene a livello di spettatori e puoi dire sti cazzi già invece se parti demoralizzato in un momento in cui non sei propriamente come ti posso dire felice emotivamente stabile così e quella cosa ti dà ammazza tipo per esempio ti posso dire che l'altra sera feci due live una live in cui appunto parlavo del mio ritorno su Twitch di tutto ciò che era successo negli ultimi mesi eccetera eccetera veramente sono partita col botto più delle mie aspettative però poi la sera decisi di andare così a fare un watch party e vi disuspiria eravamo in 70 al che poi siamo finiti con 18 ma io l'ho fatto con piacere cioè io sono rimasta là a guardare grazie mille l'ultimo dei miei cani per il sub grazie mille sei un goblin anche tu benvenuto nella famiglia e anche con Twitch Prime vi ricordo che è gratis ragazzi e questo mese le sub si pagano de meno 3,99 esatto elettra elettrina bella non dovevi ma volevi essere una goblin anche tu si sentiva un po' esclusa dal mondo che ha creato il suo ragazzo cosa ne pensi del suo ragazzo però vuole un U attenzione oh hype train bellissimo fiore moscato anche tu adesso sei un bel goblin ragazzi abbiamo attivato l'hype train dai cioè nel senso ormai finiamo l'hype train qual è il senso dell'hype train allora se lo sblocchi uh se lo sblocchi ti regala delle emoticon che puoi usare ovunque cioè non io loro che partecipano ovviamente capito ok a posto vai e ci sta e vabbè comunque nel senso il problema è il mio pensiero è molte volte questo è vero cioè io apprezzo chi rimane anche a prescindere dal titolo no grazie idral che ha giftato a yokanan grazie mille abbiamo sbloccato il livello 2 adesso c'è il livello 3 siete dei grandissimi vi amo ma dai pure tu grazie dai si doveva concludere questo app train poi comunque ti fa venire tipo una scaricata adrenalina puramente cioè non capisco il senso però è bello così tra l'altro se vi sabate c'è anche la cassa attiva quindi potete scrivere qualche cagata non bannabile possibilmente grazie 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 mille ragazzi siete dei goblin incredibili grazie mille ragazzi che goblin oidi e la cosa che io dicevo grazie a tutti ancora davvero tanto apprezzo è il fatto che dici comunque io devo campare cioè il problema di twitch io ieri stavo pensando appunto l'ho detto pure in live metti caso io ho costruito qualcosa di importante anche sta cosa del band del cerbero mi ha ah potete dire una cosa di una considerazione che hai fatto ieri mi stavo pensando dove uscire però poi mi sono dimenticata di scrivere tieni perché mo me la dici dico cavolo cioè magari sto vedendo un video mi si apre una pubblicità con una vado in un sito mi si apre una pubblicità con una con una zinna di fuori e io ho finito metti caso anche ci stanno dei siti che ti mettono tipo i pop up che ti si aprono allungati il pene e si vede la foto così lì è perma ban o quasi e dico tutto quello per cui ho lavorato è finito così purtroppo questo è il rischio di stare su su questa piattaforma Livio ma è un po' per tutti così ogni streamer corre questo rischio ciuff ciuff grazie cringe che si è volato nel terzo mese greve 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 grande il cringe abbiamo completato anche il livello 2 ragazzi se si sblocca a livello 3 ci sta un botto di emoticon che ve le danno proprio così pam 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 e il cringe non era il tuo nickname sul forum dei brutti si si tra l'altro Simone C1 ha postato Gianni sul forum dei brutti e chi è Gianni è John Boy ah John Boy non conosco il suo nome davvero no non è suo nome Gianni ah no vabbè così però noi lo chiamiamo Gianni e che hanno detto 4 e mezzo greve eh vabbè Gianni tra l'altro ragazze è single scrivetegli perché poverino tra l'altro abita abita a Tenerife cioè eh beh Tenerife tanta roba tanta roba ciao ciccio a Tenerife eh John Boy eh bravo eh no ma poverino il problema è che sta lontano dagli amici eh così quindi dobbiamo anche pagargli eh dobbiamo pagargli il volo in Italia cioè io mo mi impegnerò e cercheremo di fargli eh fare questo viaggetto che almeno si distrae un po' perché lì la situazione è un po' chiusa anche per il coronavirus le cose mi dispiace eh sì questo lo so lo so vabbè appena si sbloccherà un po' la situazione ce lo portiamo un po' qua sì 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 e quindi niente io c'ho c'ho questa cosa che vorrei arrivare al punto ehm di avere cioè indipendentemente da quello che parlo eh avere persone che ci tengono a me non all'argomento no perché se io ogni volta io non posso ogni volta portare l'argomento tipo pompato tipo incredibile guardate greve wow così e poi faccio una live seria magari e non mi caga nessuno ehm il prodotto devi essere tu non il contenuto esatto esatto e questa cosa molte volte ehm mi 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 destabilizza vabbè però tu scusami eh in realtà non credi che quantomeno ma non sarà ampissima però comunque ce l'hai un bacino d'utenza affezionato a te e ehm fidelizzato ma sì 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 certo però piano piano il problema è che per campare eh Livio però ti servono determinate cose eh e ti servono determinate cose e quei contenuti anche se le persone magari vengono nelle le tue live soltanto per i contenuti magari tramite il contenuto eh valutano anche e si affezionano come è successo a tutti noi a te a me cioè eh così forse è un percorso un po' più in salita sicuramente non sarà più facile rispetto ad altri però ehm cioè bisogna ecco darsi un tempo come tu dicevi ieri e come magari pensavo io poi questo tempo ci dirà effettivamente se questo percorso vale la pena eh sfruttarlo fino alla fine oppure effettivamente poi fare i redpillati della situazione e dire ok divertente ma non non ci si campa così ma la cosa che volevi dire eh la cosa che ti volevo dire che ieri io ti ho sentito dire eh con molto rammarico pure perché c'è stato un utente che ti aveva scritto tipo ehm beh tenevi il canale youtube poi l'hai abbandonato ma perché hai fatto questo una decisione sbagliata il canale youtube è uno dei dei miei più grandi rimpianti cioè io nel 2014 2015 ero tra i top in italia lo so e ho preso quel canale e l'ho buttato nel cesso eh però tu ovviamente ci sta rimuginare su questa situazione però cioè il passato comunque deve insegnare impegnati comunque per il futuro per quello che potrebbe essere cioè non piangere sul latte versato è veramente farti quasi venire uno stato d'ansia perché ogni tanto ogni tanto io ci penso che appunto io te lo dico proprio chiaramente io te lo dico proprio chiaramente scusami se ti interrompo tu ti svaluti perché vedi che gli altri ci hanno creduto fino in fondo e ci hanno fondato una carriera e ti metti a paragone con loro e subisci un po' questo declassamento va tu automaticamente sì 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 assolutamente ma anche perché non lo so è una situazione un po' complicata perché la vita purtroppo va solo in avanti e le scelte che fai hanno ripercussioni su quello che è il tuo presente e quando dici potevo avere una condizione economica diversa potevo stare bene potevo fare determinate cose e la vita cioè te le sei precluse tu perché è colpa tua o delle cose che la vita ti preclude in generale ieri dicevo appunto io non saprò mai che ne so com'è a vent'anni parlare con il proprio padre o con il proprio nonno no sono cose che la vita ti ha allevato e non potrai mai più avere e dici potevo sfruttare il tempo che ho avuto in maniera migliore e io invece ho preso e l'ho buttato così ed è proprio una cosa che mi dà fastidio perché è come dire non ho usufruito del tempo al cento per cento tempo che nessuno mi ridarà indietro ma questo vale per ogni aspetto della vita pure io se dovessi pensare effettivamente a tutte le scelte che ho fatto sbagliate nella mia vita e che mi avrebbero portato altrove starei tipo depressa sul letto invece di deprimermi faccio tesoro delle scelte che ho fatto per poi reinvestirle effettivamente in un futuro e non commettere più gli stessi errori tu se hai preso quella decisione magari lì per lì no in quel momento se hai deciso di buttare nel cesso il tuo canale youtube ci sarà stato un motivo ma anche pure la negligenza potrebbe essere un motivo pure magari è un motivo del cavolo è un motivo del cavolo è vero che comunque mi sono laureato e tutto quindi da quel punto di vista però attualmente la mia laurea è carta straccia cioè io lo vedo così sì sto piangendo sul latte versato ma vabbè infatti dai io ho abbandonato un lavoro in un'azienda di import export di prodotti ittici perché mi dovevo laureare alla triennale e diciamo che stavo anche scalando abbastanza bene all'interno di quell'azienda quindi avrei potuto effettivamente decidere di non laurearmi più e mi mancava un esame con una tesi scritta e però ho deciso di laurearmi dopodiché ho preso la decisione di trasferirmi a Roma ho avuto altri problemi per cui pure io dico una magistrale che dura due mesi due anni ma sto facendo durare quattro anni però ho fatto altro altre scelte di cui ci sono stati degli impedimenti naturali per cui io non potevo però diciamo che ogni scelta io la motivo e trovo una giustificazione a tutto questo per cui appunto dico poi c'è sempre un momento in cui bisogna fermarsi e capire cosa fare della propria vita e se effettivamente fare un'autoanalisi un'autocritica e dire vado bene su questo progetto oppure mi fiondo su qualcos'altro a te la laurea è carta straccia ma io mi sto per laureare in qualcosa e veramente ho fatto fuochi e fiamme per laurearmi in quello che mi piaceva tra l'altro è una materia che non mi appassiona più di tanto più prima è filosofia poi ho dovuto prendere un'abilitazione all'insegnamento prendere un'abilitazione in storia per cosa per l'insegnamento ma io non ho voluto cioè nella mia prospettiva io non volevo mai insegnare non avrei mai voluto insegnare l'inserimento nelle graduatorie con corso eccetera eccetera c'è qualcosa che veramente va al di fuori di quello che io realmente vorrei fare quindi anche per me attualmente a laurea è carta straccia cioè rispetto alle mie aspettative però posso rigirare quella mia laurea in qualcosa che attualmente mi interessa molto tipo per esempio sono stata pronta e disposta con una tesi veramente mezza scritta a cestinarla e a invece laurearmi alla magistrale in un'altra materia che è poi la materia che spesso porto sul mio canale ovvero storia del femminismo e studi di genere io dovevo laurearmi proprio roba roba comunque intanto grazie Dogneila per la sub di Twitch Prime grazie mille gentilissimo dovevo laurearmi in estetica però poi ho guardato pure al passato ho visto la tesi di laurea mia della triennale era dottrine politiche e pure lì però parlavo di categorie marginalizzate portavo Jacques Ranciere la politica ciao tedesco no figurati quindi guarda al passato ma non per piangerci sopra guardala come una spinta ma soprattutto per capire chi sei ora e cosa vorresti però finire quella frase l'ho buttata nel cesso e basta non risolve sicuramente il problema guarda la cosa è che essenzialmente questo mi ha insegnato a sfruttare più le occasioni adesso adesso appunto mi sono dato il tempo fino a dicembre perché non voglio avere rimpianti e tu per esempio fino a dicembre quali sono gli obiettivi che ti sei posto si possono dire ma proprio a livello pragmatico si si possono dire si possono dire vai dillo io ho messo che entro dicembre vorrei avere un minimo di 800 euro ok si può dire no non credo ci sia un problema non c'è problema che è penso il minimo su cui si può iniziare a costruire qualcosa se in un anno non riesci a raggiungere quella cifra per me non ha più senso continuare perché che faccio continuo e poi magari tra un anno arrivo cioè spreco un altro anno magari mi ritrovo tra tre anni che sto a fare ancora twitch e manco uno stipendio cioè capito invece una cosa del genere ti dice ok puoi provare a fare qualcosa sapendo che comunque su questa piattaforma come diceva mia nonna come te lo fai così te lo trovi cioè non è fisso tutto dipende molto eh no no ma infatti ma infatti io non è che cioè dici vado a dicembre e c'è una donazione da 700 euro e arriva 800 no non è così 800 euro senza grandi tium capito no esatto quello è il minimo secondo me è molto lontana questa prospettiva rispetto ad ora eh allora non è irraggiungibile non è lontanissima però diciamo che ancora non ci siamo diciamo perché poi c'è c'è vabbè diciamo stiamo sulla un mezzo ecco un mezzo un mezzo sì 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 ma figurati guarda io tipo posso dire molto tranquillamente che dire tranquillamente l'ultimo stipendio di Twitch è stato al pari di quando io ho iniziato a lavorare in quell'azienda di cui ti parlavo con mio grandissimo stupore non sarà la stessa cosa ma tipo da 1 a 10 dove 10 potrebbe avere 3 zeri per dire a metà ok e quindi diciamo che lì mi sono stupita anche io e ho detto poi mi sono fermato ho detto ma ma tu hai lavorato per poter fare questo cioè nel senso non sarà così questo mese ovviamente perché ecco come te lo fai così te lo trovi non non hai streamato non hai portato manco nulla di interessante ecco non quindi perché poi uno pensa no perché i Twitch già con 200 300 c'è uno stipendio vivi bene ma che cosa ma quando mai ci sono persone che con 400 500 ci incampano ma perché hanno tanti sub cioè è gente veramente fidelizzata che si subba cioè quelle 400 persone sono persone tutte subate no così e allora magari riesci a però in generale non è così ma sì ma è un acuro lì per dire sì sì che poi tra l'altro non conoscevo l'ho scoperta l'altra sera io io poi ho altre spese perché comunque abito fuori da me l'università ancora eccetera eccetera quindi però io per esempio immagino anche tu tanto comunque dei guadagni vengono reinvestiti nel canale io pago un abbonamento mensile di Spotify per avere la musichetta di sottofondo pago un abbonamento mensile dello stream deck sul cellulare ad esempio le grafiche me le sono comprate perché volevo dare un'area di professionalità e prova questo gioco vedi se va vedi se non va comprati il joypad cioè se sono piccole spese piccole ma pure banalmente la luce dietro come sfondo così per rendere quella che ho fatto prendere a Rubino che mi ha che mi ha dissato ma cosa vuole adesso appena messo quella lucetta si sono sabbati in dieci guardate la potenza della luce ma qual è me la faccio dire da Rubino che così ma potenza della luce 30 euro costa sta luce e guarda ti dà tutta un'atmosfera particolare bello bello infatti infatti si qua scrive ti ho scammato ha detto che avevi ragione perché si è ricreduto il maledetto si è ricreduto il maledetto perché io mi ricordo la sera in cui glielo dicesti e lo vedi incontrai a login Rubino e disse Livio oggi mi ha dissato sul fatto della luce ma cosa vuole a me piace così qua là io invece te ne ho idea di portare qualche altra cosa mi disse vabbè ma partica la luce guarda che Rubino prima della luce ora non so tu io c'ho una C920 lui c'ha un abbrio che è meglio della mia vai a vedere la sua live sembra che c'ha una qualità di cacca veramente sembra molto peggio della mia gli ho detto perché non c'è la lucetta non hai settato la telecamera comunque no infatti è vero a prescindere da tutto iniziamo a fare qualche domanda un po' più magari più interessante per il pubblico ok mi dici nel mondo di Twitch tu adesso sei entrato in questo mondo c'hai avuto le prime persone che ti hanno rotto le scatole di streamer non di utenti rotto le scatole in che senso magari ti hanno dissato ti hanno rotto le scatole ok ma guarda io appunto sotto questo punto di vista ti posso dire che in realtà no è proprio questa la differenza su Twitch e Youtube no io invece ce li ho avuti e non ho fatto io ci ho avuto Mister Massi bellissima live tra l'altro che cazzo è Tigro Tigro io lo sapevo la sola storia Tigro ci ho avuto ci ho avuto un po' di gente che Lord altre altre c'è molta gente con cui io lo so lo so che tu ma anche perché questo è il ti posso dire ti posso dire qua ci sta Anto Engie che comunque sono mod del mio canale raga chi perché a me di Twitch non mi viene in mente nessuno anche di Youtube dai Youtube si Youtube e Instagram si hai voglia tipo io sono partita su Youtube con Giovanni Zumo quindi Giovanni Zumo poi si è accodata quell'altra collega io non avevo manco menzionato Sabrina Bam che ancora oggi è ossessionatissima da me senza portare argomentazioni né niente ho avuto l'ultima diatriba con Aria V ma perché comunque c'è stata proprio una divergenza quella che ha goduto del Ban del Cerbero sei qualche c'hai qualche chicca perché hanno chiesto tanto in chat del Ban del Cerbero allora io ti posso dire ti posso essere sincera io ho fatto delle considerazioni più che altro allora loro di solito ogni volta che hanno ricevuto un Ban hanno sempre comunicato se lo sapevano sia il motivo e comunque le tempistiche i giorni di Ban in questo caso non sanno né il motivo e né i giorni però c'è da dire molti dicono per ma Ban per ma Ban ma se continuano ad esserci le emoticon del canale vuol dire che il canale non è stato per ma Ban non è per ma perché basta c'è un bot su Twitter che ti dice tramite un codice se il canale è partner o no se il canale è ancora partner non è per ma Ban esatto d'altro canto però io ho la cosa che c'è una cosa che hanno fatto anzi che ha fatto una persona che non doveva fare il saluto romano il saluto romano infatti ci stava arrivando io diciamo che le motivazioni più quotate erano due discriminazione razziale per il fatto di aria ma è passato secondo me troppo tempo per decidere di bannarli troppo poi tra l'altro molti dicevano segnalazioni ma il VOD manco esiste più non è stato cancellato quindi non so in che modo sono passati due mesi mi sembra strano mi sembrava molto più plausibile il saluto romano da parte di Marra a Milano perché a distanza nemmeno di una settimana sono stati bannati ma anche c'era molta gente che diceva il gatto ma il gatto non è stato perché dice che Simone ha trattato male il gatto no no non credo proprio no no non penso proprio comunque no non è per ma Ban a parità dei conti a parità dei conti credo che sia molto più grave più grave il saluto romano e c'è però d'altro canto da dire che la cosa che potrebbe preoccupare effettivamente è che non si sanno cioè non si sa il tempo la durata del ban e Sdrumox insegna Sdrumox sta ancora lì da maggio a capire quali sono possano essere le sorti del suo canale quindi diciamo che possiamo individuare sì il motivo del ban se li hanno bannati per il saluto romano credo che abbiano fatto bene mi dispiace dirlo ma ci sono comunque bene o male delle regole da rispettare grazie Insign Denizeta grazie mille ora sei un goblin che onore e quindi comunque come in ogni posto di lavoro ci sono determinate regole da seguire e qui su Twitch determinate cose non si possono fare anche se le policy di Twitch sono abbastanza poco definite lo so comunque rispondo Sdrumox è ancora partner sì Sdrumox è ancora partner no non è non è perma però intanto chissà dove esatto esatto ma sì infatti è questo allora la cosa è Twitch ti dà delle regole se non le rispetti è giusto che vieni bannato perché tu stai comunque in una piattaforma privata e se tu entri a stream accetti il regolamento accetti tutto quanto quindi non c'è da dire eh ma questa cosa è assurda e ti bannino questa cosa ma firmiamo un contrattino comunque cioè se tu entri in un forum che dice non dire cacca e tu dici cacca e poi ti lamenti perché ti hanno bannato sei un idiota secondo me perché lo sapevi ma a parte questo la cosa secondo me assurda è non dire qui ad esempio quando mi hanno bannato mi hanno detto incitamento all'odio una settimana ok mi vuoi dire il punto cosa ho fatto cioè porca miseria no tutto e niente esatto dimmi esattamente perché ha 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 capito perché se no è tutto quella è l'unica cosa potresti ricommettere lo stesso errore pur non volendo e non lo sai cioè poi tra l'altro l'ho scoperto perché mi hanno levato la live dove avevo fatto una cosa che effettivamente mi è venuta in mente non si poteva fare ma non sapevo non poteva essere fatta fare o dire esatto fare o dire perché io ero rimasta che tu avevi detto una parola sì sì io avevo detto una parola eh e io lo sai che ho detto la stessa parola inconsapevolmente cioè perché non sapevo il significato di quella parola eh ma pur io e non ti hanno bannato no è perché non ti hanno riportato a me evidentemente ci sarà stato tigro dietro a fare scusami un attimo a proposito di visto che lo nomini sempre e quindi cioè lui lo sa credo che lui lo sappia che tu lo nomini spesso no io non ho neanche non ho niente assolutamente contro tigro io non c'ho nessuna immagine niente che possa ricondurre a lui no infatti no per carità di dio cioè comunque parlando di un cartone animato abbastanza eh esatto esatto che cioè vorrei dire non poi comunque ci ricorda un po' l'infanzia che io eh no no infatti lo carezzo lo sta dove dove sta no ah che sta da parte eh tigro annaggiala in serie arrivederci baby arrivederci baby chicca di twitch italia stupendo stupendo no io non ci ho avuto mai a che fa non voglio averci mai a che fare per carità di dio non lo conosco né niente mi piace sei aditato che lo nomino sempre eh sì eh sì infatti e tu non cioè lui non dice niente non non passa ogni tanto per romperti il cazzetto no no mi sa che l'ho bannato ok siamo aperti al confronto come sempre siamo aperti al confronto tra le è impossibile fare un confronto con lui ci ho provato anche off off camera ma è impossibile è la prima persona in cui ho detto è impossibile cioè non no eh a volte sì capita pure questo cioè una delle cose che per esempio mi si dice eh ma tu sei così aperta al confronto poi pigli e banni ma no io io spero che qualcuno mi faccia un video dove mi dissa dai che si fanno le big views content mannaggia la miseria eh sì si fa content nessuno che vi fa un video contro io veramente adesso basta ma tu hai mai ricercato un po' il dissing no hai insinuato un po' io l'ho fatto un po' l'altra sera con la tier list sulle streamer donne di twitch italia infatti no io mi ricordo che quando ho fatto la tier list io ho detto che a bicoca era troppo irascibile iraconda eh ed è entrata in live e fa non è vero e mi faccio vedi che se ti arrabbi sempre lei non è vero a proposito di a bicoca io ho fatto una tier list però sono stata molto onesta con me stessa sui miei gusti personali eccetera eccetera ho visto diciamo che non avevo avevo reputato non contenuto ti ne dico una no per esempio nico al picci all'improvviso mi sono vista che mi ha messo il segui ha scritto in chat ho detto però come dico e sono onesta ripeto sono disposta a ricredermi però effettivamente nel senso poi ho sfidato a bicoca a fare la stessa tier list ha messo gittola in boosted gittola non l'ha presa proprio bene ieri nella live di bugalalla ho creato un po' un massacro da quello che so stasera a bicoca farà la live dove risponde a gittola perché gittola ha detto tipo una cosa tu sei stata bustata dal cerbero e poi campi sul tuo essere sulle tua discriminazioni però lo sai cos'è io non voglio creare cioè fondare il mio canale sul dissing cioè una cosa però capito il bustaggio così per via del dissing è una cosa che non è che mi fa impazzire voglio portare un contenuto di tanto in tanto ci sta e diverte anche infatti fatemi video contro mamma mia che palle una live qualcosa contro di me fatemi video contro significa così non sono io cioè io almeno devo rispondere no ma perché io non so che ne so ditemi qualcosa vi disso io e poi mi rispondete qualcosa che noia comunque a parte questo e provo anzi rimanendo nell'argomento ti dico tre youtuber barra streamer che non sopporti oddio non sopporto proprio un parolone youtuber i più bassi allora che non sopporto ma vabbè quella che mi nomina sempre che crede di essere youtuber secondo me non è youtuber Sabrina Bambi tu non la conoscerai il wendigo ah ok quella quella è quella più aria v non mi piace per niente non mi diverte per me quelli non sono contenuti non mi piace i tonichi adotta secondo me è molto bambina molto infantile crede di essere furba ma non lo è quindi ecco quindi si trovano tutti più o meno su youtube se ti posso dire che magari forse streamer che portano contenuti che non mi piacciono eh no perché era la seconda domanda una era chi non sopportavi e altri tre invece che portano contenuti che secondo te fanno un po' schifo eh che non sopporto quelle persone lì ma anche perché ho avuto esperienza di tipo trasversalmente diretta se possiamo dire sì perché per dire se mi facessero a me questa domanda io metterei magari tigro su chi non sopporto e magari contenuto che non mi piace ne so o wed o terenas roba del genere ok ok e su twitch non trovo veramente ti giuro nessuno che io non sopporti particolarmente non veramente non ci sta qualcuno che che proprio mi fa dire mamma mia non lo sopporto proprio non la sopporto proprio ti sono sincera invece per i contenuti che non mi aggradano ti posso nominare un'infinità il cerbero sicuramente io mi discosto completamente da quelle persone di cacca che veramente sono misogene sessiste maschiliste fanno discriminazione ogni giorno si mascherano dietro l'ironia dietro la goliardia e quindi si mascherano anche letteralmente esatto si ha maschi soprattutto quelli che si mascherano letteralmente perché non ha il coraggio di metterci la faccia non hanno il coraggio di metterci la faccia e e soprattutto io veramente quelle persone lì che indossano una doppia maschera me ne sarebbe ne attenta e poi e poi anche io direi anzi questa la dico l'ho già detta ma la ripeto anche davanti a te per cosa giusta marra maledetto bifolco non è che adesso che ti sei fidanzato non esci più con noi perché capito lui si è fidanzato adesso è scomparso dall'umanità maledissimo porca miseria maledetto no no maledetto marra no non è che c'è adesso ho trovato la donna è scomparso cioè ma dimmi te ma che amico è una persona che trova la donna ma vabbè ma ogni tanto lo vedi adesso è proprio capito raga io mi sono fidanzato ciao gli amici non si abbandonano maledetto bifolco no 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 te la dico qua in esclusiva vai la dico proprio qua in esclusiva volevi qualcosa di spicy qualcosa di croccante vai vai e infatti qua dicono Anna tenta a battere e poi fa così tengo questo infatti grazie per fatemene accorgere allora marra 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 con Alex mi hanno fatto tipo il pensiero per il compleanno e tutto mi avevano detto no guarda noi andiamo prima a cena fuori perché Alex parte il giorno dopo e poi vi raggiungiamo lì a login mi ha detto ah ok dai e mi fa piacere prima di tutto Alex non è è partita il giorno dopo e io stavo in casa con loro ma tu le hai vista la mia for festa le hai vista la mia for festa tutti quanti a chiedermi ma marra ma marra ma marra cioè che schifo non è andato né al compleanno tuo né a quello del Chitano no non solo ti dirò ancora di più madonna che altro c'è è andato al compleanno di Abicocca che era nella stessa sera di Chitano al compleanno di Abicocca nel ristorante ma non è venuto poi al compleanno di Chitano ma io non la sapevo sta cosa io penso che non era venuto e basta infatti Abicocca c'era da noi però non ci ha raggiunto lei però ha festeggiato prima da un'altra parte e poi si è spostata che schifo marra vergognati 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 dove sono cioè le amicizie le amicizie rimangono infatti io sono rimasta contenta che stavamo tutti quanti insieme e ho detto dai ma è proprio bello ma marra dove cioè dove le persone che ti hanno accompagnato in questi anni dove le hai lasciate le hai prese e lasciate sul marciapiede adesso che hai trovato la fiamma eh tutti tutti i giorni insieme amici stretti tutti cioè tipo una sorta di fratellanza perché non ci sei perché sto sto simp de marra eh 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 non si fa non si fa cioè io veramente pura un po' di amicizie io non ho parole cioè veramente abbiamo passato cose ah bella bro 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 cosa brother ma bro brodo al massimo un brodolone sbrodolone sbrodolone secondo te i bro scompaiono così all'improvviso i bro sono sempre bro esatto poi i bro al compleanno ci vengono ci vengono ci vengono e come che schifo perché da bicocca si e da meno perché che schifo cioè veramente da chitano no da chitano cioè chitano veramente è la persona più squisita del mondo la faccia mia al contrario di Anna no scherzo Livio vaffanculo veramente ragazzi è stato un piacere arrivederci oh e adesso vai dismi sì ah 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 ma tu per questo volevi ah non ti preoccupare non ti preoccupare io sono un rubino al femminile ah c'è la cartellina Livio Marconi quante ne ho non ti preoccupare no Livio Marconi ancora no anche se proprio ti devo dissare ma lo dobbiamo dire lo diciamo adesso lo diciamo sono inattaccabile no ma quali inattaccabili ti ricordi all'inizio quando ci siamo conosciuti che tipo io ti stavo sul cazzo totalmente perché Simone ti inviò una mia nota vocale dove dissi vabbè ma Livio è un bel ragazzo cioè tu mi hai schifata perché io avevo detto Livio è un bel ragazzo ma ti viene un attimo l'idea io ti ho schifata non è vero sì sembra così diceva ma tu credi a Simone ma pure te ma sveglia eppure tu eri tipo tutto scostante nei miei confronti lo sai perché no 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 ecco ora mi ricordo la cosa è fammi finire di dire ti viene in mente che se ho detto una cosa del genere non è che l'ho detta magari in macchina stavano tipo perculandoti e ho detto guarda in realtà secondo mi sembra un bel ragazzo è un bel ragazzo ti viene in mente stessi idea no che me ne esco a buffo davanti al mio figa allora questa questa è colpa di Simone come al solito ma io vorrei dire una cosa perché a me è stata riportata in una maniera un po' particolare e io dato che comunque sono molto amico di Flame ok io ho detto cioè per qualsiasi cosa mi cioè non voglio creare polemiche cose quindi sto un po' più distante cioè solo quello ma pensavi che io tenevo delle mire nei tuoi confronti no nel senso nel senso mi sono state dette delle cose io quindi sono sono stato capito cioè perché io al contrario di Marra prima l'amicizia io in quell'occasione ho detto no vabbè ma comunque cioè sarò io però per esempio ho sempre avuto ragazzi magri alti rientrano molto comunque nello schema dei miei gusti così ma che cazzo stavo dicendo eh no il Flame è proprio tutto nel contrario cioè quindi nel senso ma in questo modo cioè capì sì ma io il discorso di gusti di estetica io col senno con la cosa cioè dopo un po' l'ho capito subito infatti cioè tranquillo infatti io ci ditevo pure sopra ma sì sinceramente sinceramente non ti ho mai schifato cioè non ho mai detto no no lei no ma quando ma dove no ma poi davanti al mio raga ti pare ti pare Arianna sta tranquilla si stava facendo un discorso attorno al gusto all'estetica ma sì ma è una cosa di due anni fa ma che cazzo cioè però tu io ti vedevo distante quindi mi mettevo pure io distante perché ho detto voi chissà che cazzo gli hanno detto perché Gianluca venne e disse no io dissi una volta a Gianluca sì Gianluca ma secondo me Livio mi odia no 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 Livio mi odia sì e lui disse guarda io ti devo dire la verità quello Simone ha inviato la nota a Livio quella là dove tu dicevi che Livio comunque è un bel ragazzo quella forse da quel momento detto prima di tutto eri Simone uno stronzo chiacchierone di merda e quindi cioè già e poi mi pigliai da parte pure lui e dissi ma ti pare ma io poi stavo entrando in quel momento in quella compagnia mi sentivo pure in difetto a disagio dicevo ma come cazzo poi tu pure tieni ogni tanto lo sguardo arcigno così quando non conosci qualcuno tendi un po' a chiuderti e da lì ho detto vabbè non fa niente ciao che pensi quello che deve pensare ma no ma io ma figurati ma no aspetta ero in buona fede io vorrei leggerti l'ultima conversazione con Simone ti ho difeso quella sera davanti a tutti l'ho detto a tutti il fatto del messaggio che mi ha dato a Simone ecco sì sì vabbè a parte vabbè no ragazzi lui stava lui stava a Milano e ha detto come sta andando e lui ha detto vabbè tutta un po' ti stai trovando bene finito immagino che non ti ha proprio più risposto no e la mail finì così poi poi ho messo la cosa Free Cerbero la storia su Instagram Marra Flame Cerbero l'hanno ricondivisa l'unico che non mi ha cagato di strisce è stato Simone capito quello che dovrebbe essere il mio migliore amico l'hai in mezzo no e invece no e invece no e ti dirò e lo dico anche davanti a te e proprio di tutti il mio migliore amico dei tre è Gianluca vaffan bene perché Simone è un balordo ok e questo l'abbiamo capito tutti Marra è scomparso perché è un simp e ma Flame è il migliore quello che rimane nonostante si sia fidanzato alla faccia di dubbi vabbè però il fatto che Simone non risponda non è perché si è fidanzato no 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 perché lui è fatto così no no perché lui è un pezzo di panico una volta gli ho scritto mi manchi col cuoricino lui non mi ha risposto non mi ha risposto questa cosa l'ho detta a chiunque da quando te l'ho sentita dire che stavamo una sera a Login che ne stavi parlando con Simone io stavo vicino a Chitano e stavo sentendo la cosa che tu avevi mandato il messaggio a Simone mi manchi e lui non ti ha risposto ha visualizzato e non ha risposto ha visualizzato e non ha risposto e poi mi vede dopo e mi fa è un periodo un po' così no vai a cagare tra l'altro lo sai quella cosa bella è che non mi puoi rispondere va bene Simone che sei bandato non mi puoi rispondere al dissing che ti è dov'è Tutupi dov'è non lo vedo siamo due candelle comunque Livio ma poi candelle significa tipo signore di cortina che proprio la cortina il luogo che parlano è Danpezzo che poi però tra l'altro Simone lo devo dire ha detto ha detto pure io non ho bisogno di manifestare il mio affetto il fatto che ti voglio bene perché io lo so e lo devi sapere anche tu detto pure così ho capito ma ogni tanto noi amicizie cose carine si scrivono cioè io per dire per Tago io darei la mia vita eh lo so cioè seriamente cioè mi dici spara a me o spara a Tago io dire spara a me per Tutubi ci ho pensato poi ho detto ma lui lo farebbe con me no e allora ma non lo farebbe non lo farebbe anzi stavamo ora è diventata le suocere al contro Tutubi però questa la voglio dire chi se frega distinghi a Tutubi allora stavamo alla festa tua o di Chita non mi ricordo c'era la divisione della torta e praticamente ognuno si passava la torta la mia la mia ok ci siamo passati la torta mi arrivava la torta io la passavo perché si fa così no certo sento Tago e dico senti ma secondo te chi è che non passa la torta perché a una certa si ferma no cioè uno la prende no e praticamente la torta stava al centro e c'erano due gironi no quindi una partiva da qua una partiva dall'altra parte sì il primo dall'altra parte era Tutubi e chi è e noi ci giriamo e vediamo Tutubi c'è che stava a mangiare mangiando hai capito ma infatti così si fa no tu peghi la vicina egoista egoista è proprio fatto così ma Tago subito e mi ha detto Simone e ho detto pure a Dave Jordan e faccio Simone la signora stava già a mangiare no ma non mi sarei aspettata diversamente cioè da Simone anzi mi sarei meravigliata del contrario però ti posso dire una volta che è successo e stavo a casa da loro e io dovevo scendere giù quindi me ne dovevo andare quindi andavo di fretta e furia e fece Simone sta cosa mi ha fatto un po' pensare perché nonostante comunque abbiamo capito il tipo che è il suo carattere ad un certo punto fece mi guardò e disse Anna ma come stai tutto bene ma sei nervosa sei dispiaciuta io rimasi un attimo così dissi no vado di fretta perché devo andare a prendere il pulmo ah no ok ok dissi cazzo Simone si è preoccupato un attimo si sarà preoccupato perché doveva inciuciare sicuramente perché magari Simone Simone lo fa questa cosa cioè là pure a me fa Livio sono preoccupato per te faccio perché è un periodo un po' così ma lo fa tipo una volta ogni tre mesi lo è preoccupato per me non si sa per quale motivo non c'ho niente quando veramente avevo bisogno del tuo aiuto esatto quando ti ho scritto il messaggio dove eri dove eri non era solo mi manca mi manchi col cuoricino col cuoricino col cuoricino madonna mia che che pezzo di mamma mia no ma è veramente cioè come si fa come si fa cioè mi mangia la mia migliore amica però devo ammettere devo ammettere che molte volte quando c'è tipo da non so come spiegare da da difendermi eccetera lui ci sta in live si dall'altro fuori live fatti tutto da solo perché perché a parole bravissime lui a parole bravissime cioè lui ti dice guardi io veramente ti voglio bene poi fatti vorresti più fatti ah boh ma lui ha il suo modo di manifestare il suo affetto per te ma si scherza però si scherza si scherza però comunque ti ha strappato il cuore mi manchi mi qualizzato e non cioè peggio magari di quando tu stai ti sei appena lasciata col fidanzato ma poi dico ma nel mio curriculum ma io posso mettere friendzonato dato dubbi si si secondo me si ma che figura ci fanno ma manco friendzonato perché almeno un amico friend hai capito cioè friend dovrebbe rispondere esatto è tipo eh conoscitato no si si è proprio deglassato tipo frequentazione zone io non ho parole veramente tiri fuori questo lato cattivo di Livio Marcone che poi adesso scusami non sono non voglio essere di parte niente 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 abbiamo parlato di Marra abbiamo parlato di Simone una cosa su Gianluca una pecca Gianluca una pecca una pecca su Gianluca o qualcosa che ti ha fatto Gianluca Gianluca in realtà è l'unica persona che non mi ha fatto nulla ma neanche Marra in realtà neanche Marra abbiamo detto di Marra abbiamo detto di Simone per far condicio eh no sto pensando però effettivamente Gianluca è uno proprio tranquillo cioè si vede che ci tiene cioè anche se magari comunque non ci vediamo per un po' io so che comunque se mi serve qualcosa lui ci sta ah forse non lo so non mi ricordo dai che te l'ha venuto in mente non lo so no non mi ricordo bene come è andata però mi ricordo che una volta tipo ah no lì era sempre un magheggio di Simone la live alla fine è sempre colpa di Simone stavo pensando a quella cosa perché da quello che dice Simone quando io avevo invitati Gianluca aveva detto no no poi intanto se attacca me ne vado sì sì no è un magheggio di Simone era sempre un magheggio di Simone no quindi con Gianluca non c'ho niente tutta colpa di Simone alla fine perché qual è una pecca di Gianluca magari mi accodo no no vabbè pure lì mi ricordo che c'è rimasto male una pecca di Gianluca ma vabbè ma io Gianluca è il mio fidanzato ci sono pecche diverse rispetto a quelle che potresti indicare tu forse bestemmia troppo bestemmia ecco ecco in maniera immotivata insensata e a volte a volte secondo me almeno in passato adesso non più c'erano delle serate che sono state rovinate perché lui aveva alzato un po' il gomito un po' tanto quella è una però cioè succede cioè se ne frega sì 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 diciamo che queste cose un po' più così ma nel senso quello che io ho nel suo rapporto resta privato perché pure in realtà non ne ho mai parlato e non ho mai voluto parlarne perché qui ci sono degli sciacalli che si appigliano a tutto tu devi sapere non lo so se lo sai verso durante la quarantena avevo subito un periodo di forte forte stress stavo da sola faceva con la Sabrina Bambi là il Wendy poi comunque veramente ero stata inghiottita un po' da un momento di solitudine di attacchi queste cose di questo tipo e lui io non lo sentivo vicino tanto quanto avrei voluto sentirlo cioè o quanto meno no perché a lui dà fastidio stare al telefono per tipo mezz'ora lo vedevo però invece se ne andava a giocare su GTA dicevo ma è una questione di priorità tu vedi che io sto così cioè con chi sto con Bambi all'epoca questa cosa mi sconvolse e quindi disse no ci dobbiamo lasciare ci dobbiamo lasciare perché non niente e questo per dire cosa una pecca di Gianluca poi comunque GTA è divertente cioè è divertente che divertente sto scherzando una ragazza cioè che sta così e e niente forse magari quello di lavorare un po' sulla sulla priorità però guarda io direi che è proprio Gianluca anche cioè stranamente questo ti volevo dire scusami lui disse in live io disse andai in live e dissi perché si vedeva proprio che stavo tipo mortissima e inizia a sparare a caso sul fatto però si intuiva che era riferito a Gianluca che era una questione di priorità bla 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 lui aveva saputo di questa mia live e in live da lui Simone che sapeva che ha politizzato disse alla fine di una live beh tu Gianluca che cosa tieni da dire tutto a posto con Anna tipo una cosa del genere e Gianluca disse no su single apri di cielo prima di tutto Simone fatti i cazzi tuoi perché i cazzi nostri vabbè come su la zizzania Simone ma sì 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 ma ti posso anche dire che dopo quella cosa ecco forse una delle brutture che ho visto su Twitch è che tutti quanti poi magari a quelle persone sulla quale io stavo sul cavolo iniziarono a scrivere tipo in chat eh finalmente ti sei liberata liberato di quella balena di quell'antipatica di questo di quello una cattiveria immensa e dove era Despicable a moderare questa chat dove eri ma guarda che Despicable è uno è molto difficile è gente che addirittura si prendeva l'impegno di scrivermi su Instagram cattiverie su cattiverie e e ti posso anche dire che questa cosa io già non stavo in uno stato emotivo diciamo buono perché comunque cioè c'erano tanti fattori che mi avevano portata in un simil stato di depressione poi mettici pure sto fatto di Gianluca il giorno dopo mi alzo mi trovo un DM di Webbo che mi scrive ciao ma è vero che ti sei lasciata con Mr. Flame per fare l'articolo dissi uah non ci vidi proprio più dissi voi siete degli insensibili del cavolo ma come cavolo vi permettete di scrivere il giorno dopo ad una ragazza che si è lasciata un fidanzato senza che si sono sbottonati più di tanto niente perché ci devi scrivere l'articolo perché ci devi campare sopra non pensando agli effetti emotivi di quella persona che potrebbe avere leggendo l'articolo o quantomeno venirlo a chiedere proprio direttamente non sai come sta emotivamente non sai che cosa sta passando ma vi rendete conto che siete delle persone di merda ah no perché a noi ci hanno riferito che era una cosa vecchia guarda caso è successo ieri sera ci hanno riferito sì vabbè lasciamo per Webbo Webbo pensa a tenere ad ampliare un po' quelli della relazione per rivisitare un po' gli articoli perché alcuni articoli sono scritti proprio con i piedi quindi sì sì confermo e quindi niente cioè pensa un po' a te no è incredibile mi hai aperto un mondo un mondo di tristezza sì 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 per questo dico cioè la vita privata ok però fino ad un certo punto perché poi quando tutta la vita privata viene messa alla mercè degli spettatori online mediaticamente questa cosa potrebbe ritroccersi contro quindi diciamo attutire un attimo eventualmente futuri effetti guarda che è una cosa che io a cui penso sempre spessissimo io spesso e volentieri mi chiedo e se dovesse finire con Gianluca cosa subirei ma non soltanto a livello lo sai qual è il problema è che ti sei impelagata in qualcosa dove lui è una persona che conta nel senso nel mondo di twitch vabbè quindi ma allora qualsiasi tipo di ragazza no no appunto cioè il problema è che nel momento in cui entri in questo mondo alla fine se succede qualcosa ci si va di mezzo eh eh no quello è purtroppo quindi non lo so poi ovviamente se ne parlerà come scrivere è ovvio io ovviamente poi tra l'altro magari se fossi stata sicuramente dietro le quinte senza mai farmi vedere né niente così senza espormi sicuramente non avrei subito eventualmente gli stessi danni che potrei subire ora eh parliamoci chiaro certo però bisogna anche buttarsi nella vita certo assolutamente per quello sono cioè non è che hai fatto una scelta sbagliata quindi non per questo timore io poi devo limitarmi eventualmente sulla vita di tutti i giorni esatto esatto però purtroppo il web è spietato il web il web è spietato il web il web è spietato però ci stanno persone che non vedono l'ora di di vederti crollare perché più più sali e più il tonfo che fai è grosso quando cadi vero 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 non hanno scrupoli davvero guarda in conclusione ti faccio l'ultima domanda anche se in realtà hai già mezzo risposto però magari c'è qualcos'altro qualcosa che non hai c'è qualcosa di succulento che magari non hai mai detto online riguarda la vita privata no vabbè in generale decidite una cosa questa cosa o qualcosa che hai detto che hai detto però con poca gente insomma una cosa che non ho detto ma io ho fatto mezzo intuire una volta in una live riguarda una persona una streamer e senza fare nomi che però rientra nell'ambito nella sfera privata e questa cosa invece dei play lover ma ne parlerò non ne sto parlando solo perché sto aspettando di avere sì sì certo di leggere la sentenza e comunque capire eventualmente una manovra anche con gli avvocati perché ecco è una battaglia che si è mossa sulla libertà di critica d'espressione che abbiamo stravinto e questo crea un precedente vuol dire che non ci si può mettere sempre il bavaio in bocca per paura di esprimere le proprie opinioni quindi proprio per questo da questo punto di vista perché non parlare di quello che è successo proprio in contrasto con la sentenza quindi sto aspettando sto aspettando ok perfetto allora ragazzi iscrivetevi al canale di red lilium e tra l'altro sarò da lei live alle sette e mezza giusto ah ma quindi stesso stasera volevi fare lo vuoi fare un altro giorno per me va bene uguale non me l'hai detto per me è uguale domani sera ti avevo detto che mi dovevi dire se stasera tutto stasera oppure domani sera come vuoi avevi detto ieri come vuoi quindi vabbè allora domani sera ci sarai alle sette e mezza ok vogliamo dire di cosa parleremo allora ci sta questo nuovo format che sto portando la prima volta ha partecipato Lucy Lane e si chiama confess your unpopular opinion cioè praticamente confessa le tue opinioni impopolari io stasera quando staccherò la live ho una ruota si sceglieranno a sorte quattro categorie sulla quale dovrai dire la tua opinione impopolare io porto sempre l'esempio del molto banale della pizza tipo per esempio in realtà esce la categoria cibo no io sono andata a Milano perché devo fare questo non sapevo che cosa prendere mi sono mangiato sta pizza con l'ananas e devo dire che a differenza di quello che pensano tutti è buonissima in realtà ovviamente non saranno non saranno così banali queste unpopular opinions infatti ti comunicherò stesso stasera quando usciranno le categorie in modo che ci puoi pensare già per domani ah ok perfetto qualcosa sempre di piccante perché per esempio Lucy Lane si è lasciata abbastanza andare ti avevo detto già in privato tipo per esempio era uscita categoria estetica lei ha detto a me non piacciono gli uomini fisicati tipo Marra Danny Lazzarini non mi piace più tipo con la pancetta perché poi questi sono fissatissimi per la palestra ti pensano c'è queste cose qua quindi ti dirò poi a fine a fine live che cosa uscirà ok quindi domani sera le 19.30 sul mio canale ci sarà Livio che ci racconterà va bene ti dirò qualsiasi cosa mandami le cose in privato e poi va bene va bene ok ragazzi iscrivetevi al suo canale grazie a tutti di averci seguito e noi ci vediamo o stasera verso le 9 o se no domani alle 4 alle 4 ci siamo sempre ciao 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 ciao